Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, si è conclusa dopo due settimane di intense emozioni e scontri avvincenti la regular season della primissima E-Serie A team. Ci tenevo a portarvi questo video recap per andare ad analizzare quanto era successo, come si strutturerà d'ora in avanti la competizione che diventa veramente super appassionante e quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere devi passare subito a vedere come è andata nei diversi gironi. Gironi che hanno visto nel gruppo A la Fiorentina Esports prevalere sulle altre, concludendo addirittura a 14 punti con 4 vittorie e 2 pareggi imbattuta all'interno del suo gruppo. A seguire Inter Esports con 8 punti, Lazio Esports con 6 e a chiudere Atalanta Esports con 5 punti. Andate ad analizzare quelli che sono stati i risultati, abbiamo visto subito quello che è stato il debutto vincente da parte della Lazio contro l'Atalanta, un pareggio molto emozionante tra Manuel Neto e Giovi 69, tra quelle che erano le due squadre più, diciamo, accreditate per la conquista del primo posto nel girone A. Atalanta che poi perde 4 a 0 contro l'Inter, Fiorentina che vince 2 a 1 contro la Lazio, Inter che vince anch'essa 2 a 1 contro la Lazio, arriva poi il roboante 6 a 1 della Fiorentina contro l'Atalanta, il 3 a 2 dell'Atalanta nei confronti della Lazio che finalmente riesce a mettere i primi punti in cascina, la vittoria nello scontro al vertice tra Fiorentina e Inter per 3 a 2 per i Viola, 1 a 1 poi tra Inter e Atalanta, 0 a 1 a favore della Fiorentina contro la Lazio, Lazio che poi a sorpresa ribalta per 3 a 1 l'Inter e si arriva all'ultima partita, quella tra Atalanta e Fiorentina che era decisiva per i Bergamaschi, perché con una vittoria avrebbero chiuso in terza posizione rimanendo aggrappati quindi alla Winner Bracket, perché come funziona? All'interno dei gironi da 4 squadre le prime 3 vanno in Winner Bracket, in particolare la prima parte già dal secondo turno, l'ultima invece parte dalla Loser Bracket e in particolare dovrà vincere quello che è un doppio scontro per accedere al tabellone, quindi peccato perché Inza è stato molto sfortunato nella partita contro l'Orix all'87, un miracolo incredibile del portiere Viola nega la gioia della vittoria ai Bergamaschi che dovranno dunque affrontare un turno aggiuntivo per poter cercare di rientrare all'interno della competizione. Gruppo B, il nostro gruppo, quello che vede il Cagliari Calcio Esports che rappresento anche io però su Xbox, quindi non partecipo a giocare, ero lì assieme ad Hollywood nella figura di coach, abbiamo gestito quelli che erano i diversi incontri, chi doveva giocare e chi meno. Concludiamo al primo posto in quello che è stato definito un po' da tutti il Girone della Morte, perché tra le nostre fila schieriamo Obrun e Daniel, due giocatori molto molto forti, Obrun è il giocatore piazzato meglio in classifica europea al momento tra tutti quelli che sono presenti all'interno della Serie A, il Benevento di Danny Pitbull, il Genoa di Gabri, lo Spezia di Margamat e la Samp di Lonewolf, quindi Girone sicuramente molto molto combattuto e si vede anche nei risultati. Chiudiamo a 16 punti in vetta, seguiti dal Benevento a 14 punti, il Genoa a 12, lo Spezia a 10 e la Sampdoria a 5. Girone dai 5 che vede ancora una volta la prima partire già dal secondo turno, seconda e terza partire dal primo turno di Winner, la quarta che è già in loser bracket e la quinta che invece è allo spareggio per poter rientrare nel tabellone. Andando a vedere i risultati è stata veramente ragazzi una girandola di emozioni, a debuttare nel gruppo Sono Spezia e Benevento con Marga e Dani che concludono con un pirotecnico 3-3, arriva il nostro esordio contro il Genoa con un 6-0 che insomma fa capire quali erano le intenzioni di Obrun subito di dimostrare chi comandasse all'interno del raggruppamento, arriva poi la vittoria per 5-2 dello Spezia e Dani della Samp, il 2-1 del Benevento contro il Genoa, il 4-2 della Sampdoria col brivido, addirittura Obrun era dato 2-0 sotto contro l'Onwolf per poi recuperare la partita e portare i tre punti a casa, 4-1 la vittoria del Genoa contro lo Spezia, arriva la prima sconfitta anche per noi, perdiamo 2-0 contro Dani Pitbull, quindi il Benevento in questo momento era lanciatissimo verso quelle che era la vetta della classifica, 5-0 nel primissimo derby di queste Serie A tra Genoa e Sampdoria e un'altra sconfitta per 2-1 molto sfortunata contro lo Spezia e il Benevento per fortuna invece viene fermato sul 3-3 dalla Sampdoria perché avrebbe preso veramente il largo, quindi dopo questi diciamo risultati Girone che era molto 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 combattuto, tutte le squadre erano veramente racchiuse entro pochi punti. Benevento che poi si porta a casa la vittoria per 3-1 contro lo Spezia, il Cagliari batte per 1-0 il Genoa in una partita veramente super tesa e che rilancia un po' le ambizioni alla vetta della squadra rosso-blu, Sampdoria che batte per 3-2 lo Spezia, Benevento che perde 3-2 contro il Genoa, questo è un risultato fondamentale che ci riavvicina alla prima posizione, cosa che non riusciamo a sfruttare immediatamente con il 3-3 nei confronti della Sampdoria, 4-0 la vittoria dello Spezia contro il Genoa e arriviamo al big match appunto per decidere le sorti di questo gruppo B tra Cagliari e Benevento con Daniolf che riesce a prevalere contro Dani Pitbull al termine di una partita veramente accesissima, piena di ribaltoni e di occasioni sia da una parte che dall'altra. Abbiamo poi nel gruppo B ancora la vittoria del Genoa contro la Sampdoria anche nel derby di ritorno e a concludere la vittoria da parte del Cagliari per 2-1 a suggellare la prima posizione in classifica e il Benevento che batte per 4-2 la Sampdoria e rimane aggrappato invece al secondo posto. Quindi ancora una volta Cagliari che partirà dal secondo turno, Benevento e Genoa dal primo turno della Winner Bracket, Spezia dal primo turno di Loser e Sampdoria dal girone preliminare per accedere al tabellone. Gruppo C nel quale magari c'erano i nomi meno altisonanti, abbiamo l'Udinese di Dastard, il Crotone di Sclop e Aventi Pis, l'Ellas Verona di Dave e il Sassuolo di Peda. Quindi magari i nomi che ai più saranno appunto poco conosciuti ma si tratta di giocatori di livello anche in questo caso e segnalo quella che è la prestazione dominante da parte di Dastard e dell'Udinese che conclude con 16 punti su 18 disponibili, 5 vittorie e un pareggio anche lui imbattuto all'interno del suo girone. A seguire abbiamo il Crotone eSports con 8 punti, l'Ellas Verona con 5 e il Sassuolo eSports con 3 che partirà anche qui dal girone preliminare per accedere poi alla loser bracket. Risultati che non lasciano spazio a grosse interpretazioni, abbiamo il pari tra Verona e Crotone, la sconfitta per 2-1 del Sassuolo contro l'Udinese, il 3-0 del Verona contro il Sassuolo, il 3-2 dell'Udinese contro il Crotone, il pari tra Sassuolo e Crotone, il 2-1 dell'Udinese sul Verona, il 3-2 del Crotone sul Verona, il 3-3 tra Sassuolo e Udinese, l'unica battuta di arresto, tra l'altro una partita folle con Dastardi dell'Udinese che segna l'89 e Peda che pareggia sul kickoff al 92, una roba allucinante. Sassuolo-Verona ancora una volta 1-1 pareggite per i ragazzi nero-verdi, Crotone che perde 2-1 con l'Udinese, 5-0 poi subito di riscatto contro il Sassuolo e infine Dastardi che conclude il girone vincendo per 4-3 contro il Verona in quella che era una partita fondamentale perché in caso di vittoria avrebbe rilanciato appunto le ambizioni al secondo posto del Verona che però avrebbe dovuto poi fare i conti con una differenza reti problematica ai danni del Crotone. Quindi tutto diciamo come da pronostico all'interno del girone C, sorprese all'interno invece del gruppo D dove il Bologna conclude al primo posto con 13 punti seguito dal Milan di Crezi e Denuzzo che era dato da tutti come la maggiore candidata per chiudere in prima piazza. Abbiamo poi il Torino a 6 punti e il Parma anche che però chiude all'ultimo posto a causa della differenza reti di meno 6 mentre il Torino aveva più 1. Quindi Bologna che partirà dal secondo turno, Milan e Torino che partiranno dal primo turno di Winner Bracket Parma che dovrà andare a giocare lo spareggio. Anche qui risultati abbastanza, insomma anche sorprendenti per certi versi abbiamo subito il 3-2 del Bologna contro il Parma Parma che era sopra di due gol, scusatemi di un gol fino all'ottantesimo e addirittura negli ultimi dieci Oran Giorgio è riuscito a ribaltare il game. Il Torino che perde 2-1 col Milan in una partita che ha visto Zachigno super sfortunato meritava sicuramente qualcosina in più Parma che batte per 1-0 il Torino Bologna che si riconferma a schiaccio sassi battendo per 3-2 il Milan 1-0 del Bologna contro il Toro ancora una volta 4-1 del Milan contro il Parma 2-0 del Bologna contro il Parma 3-2 del Milan sul Torino 3-0 del Torino contro il Parma Pari tra Bologna e Milan prima sconfitta per il Bologna che schierava il suo draftato il buon Lilbo Pip che comunque ha disputato una gran partita e infine Parma che sconfigge il Milan 4-2 e dimostra di onorare la competizione e spegne quelle che erano le ambizioni al primo posto del Milan Clash che appunto in caso di vittoria a causa della differenza reti sarebbe arrivato primo quindi Ampere anche qui ragazzo draftato è stato abilissimo nello sconfiggere CrazyFightGamer e almeno a portare i tre punti della bandiera a casa come... cosa succederà adesso? 20 e 21 aprile si andranno a disputare quelli che sono i playoff playoff che vedono il loser bracket nei knockout stage quindi per accedere alla loser bracket lo scontro tra Parma e Sampdoria e tra Atalanta e Sassuolo le vincenti di queste due partite si andranno a sfidare e si andranno poi a appunto posizionare all'interno della loser bracket e il loro torneo riprenderà in loser bracket abbiamo detto già c'è lo spezia al primo turno mentre abbiamo al primo turno di winner bracket la partita tra Genoa e Crotone la vincente sfiderà al secondo turno il Bologna abbiamo poi Torino e Inter con la vincente che sfiderà l'Udinese Lazio e Milan con la vincente che sfiderà il Cagliari e Benevento contro Verona con la vincente che sfiderà la Fiorentina al termine di quella che sarà sicuramente una partita scoppiettante quindi un giro, un bracket che al momento è molto 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 diciamo combattuto già a vedere quelle che saranno le partite l'obiettivo praticamente è arrivare a quelle che saranno le final eight che si disputeranno poi successivamente chi parte dal secondo turno di winner bracket chiaramente deve vincere un solo turno chi parte dal primo di winner bracket deve vincerne ovviamente due per quanto riguarda invece la loser bracket saranno tre le partite che dovranno essere disputate per poter accedere alle finals veramente emozionato raga perché questa prima E-Serie A team è veramente fatta bene secondo me l'unica nota dolente sono commenti non propriamente adeguati all'interno della chat di Twitch mi è dispiaciuto tanto leggere addirittura offese razziali nel 2021 immaginate come stiamo messi nei confronti di Zacchigno il player del Torino commenti offensivi nei confronti della Pagani da gente che probabilmente non ha mai visto come è fatta una donna e quindi deve sfogare la propria sessualità precoce in una chat Twitch quindi tutto molto bello ma cerchiamo di crescere un po' tutti perché veramente non se ne può dobbiamo capire che una volta che ci ritroviamo sulla piattaforma internet le nostre parole pesano e anche un commento non può essere interpretato male anche se si vuole scherzare anche se di scherzoso in quello che è stato detto c'è veramente poco e sono scherzi veramente fuori luogo quindi cerchiamo di crescere e di prendere un attimino consapevolezza di quello che facciamo anche sul web e cerchiamo di goderci lo spettacolo perché ce n'è stato tanto e continuerà a esserci raga per questo video è tutto fatemi sapere se state seguendo la E-Serie A fatemi sapere che ne pensate lasciate un like in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola un abbraccio e un salutone dal vostro Riberowski fate bravi ciao ciao